Oggi cucino un delizioso minestrone di verdure, lo insaporiamo con un ingrediente segreto per dargli quel tocco in più. Lo facciamo con questo. Aggiungo tre fette di prosciutto crudo, pesa in tutto 25 grammi, il prosciutto crudo lo vado a tagliare a pezzettini, taglio anche mezza cipolla. Questa cipolla che sto tagliando a pezzettini pesa 85 grammi, è una cipolla rossa perché è più saporita. Tutto questo trito va messo in una padella perché con un filo di olio di oliva va soffritto il tutto, per circa una decina di minuti, massimo una quindicina e mentre soffriggi devi mescolare di continuo per evitare che brucia a fiamma bassa, così si soffrige bene. Poi metti dell'acqua a temperatura fredda di rubinetto nella pentola con il soffritto e gli 85 grammi di piselli, questi sono quelli surgelati. È importante abbassare la temperatura del contenuto della padella. Io prima ho tagliato una carota e una patata a cubettoni, comodi per poi essere mangiati. Affinché in cottura la patata non si disgrega dando cremosità al piatto, sparendo, bisogna metterla in acqua fredda e cominciare a cuocerla così partendo dalla sua cottura in acqua fredda. La patata rimane così a cubettoni interi come li hai messi. Comunque continua la cottura fino a che l'acqua riprende a bollire e che le verdure del minestrone si cuociono. Butta i 30 grammi di pasta in padella tenendo conto del tempo di cottura della pasta assieme alle verdure. Appena butto la pasta io metto il brodo in polvere, questo è quello granulare ma va bene anche del dado, poi cuocere ovviamente il tutto direttamente nel brodo, ho aggiunto sia quello di pollo che quello vegetale. Quando la pasta si è cotta e le patate e le carote si sono abborbidite allora è pronto, buon appetito!